Mio nonno, mia mamma, io, i miei figli, abbiamo una tendenza al mal di testa. Ne ho sofferto parecchio, adesso ne soffro un po' meno. Ho smesso di prendere il medicinale perché ne prendevo troppi. Faccio un po' di fisioterapia giapponese. Mi fa sempre molto piacere. Fisioterapia giapponese? Sì. Assaggiatori giapponesi. Assaggiatori giapponese. Eseguite. E' una di quelle cose che possono essere vere ma non verosimili.